Nel corso dei prossimi 5 anni, oltre 80 dirigenti provinciali su 200 cederanno il proprio posto di lavoro per avviarsi al pensionamento. Intanto per poter compensare il cambio generazionale, la provincia auspica l'appoggio da parte della Libra Università di Bolzano per poter trovare nuovi dipendenti. La dolce pensione si sta propinquando anche per molti dipendenti della provincia autonoma di Bolzano. Nei prossimi 5 anni, infatti, nei palazzi bolzanini ci sarà un cambio generazionale. Tra responsabili di ripartizioni, direttori d'ufficio e collaboratori amministrativi, saranno più di 80 a lasciare la propria attività al servizio della res pubblica. Il direttore della ripartizione personale, Engelbert Schaller, afferma che proprio nel suo ambito se ne andranno tre dirigenti su nove. Si tratta dunque di una vera e propria emoragia di dipendenti. Proprio per questo motivo, la provincia spera di poter godere di qualche ausilio da parte della LUB. L'Ateneo Bolzanino dovrebbe infatti sfornare manager qualificati in grado di svolgere le mansioni amministrative per la provincia. In autunno partirà il nuovo corso di laurea magistrale in Economia e Management del settore pubblico. Tra tre anni usciranno i primi laureati predestinati ad entrare nell'impiego pubblico lavorando per la provincia. Ogni laureato, perciò, potrebbe avere un compito importantissimo, ovvero quello di fungere da Deus ex machina per l'amministrazione provinciale in crisi.